Seconda parte di Studio Robur, cominciamo subito sentendoci le dichiarazioni di Luca Zanon che ormai è diventato titolare fisso sulla fascia sinistra e è avanzato anche di posizione da terzino a esterno di centrocampo. Ci sentiamo allora le sue dichiarazioni dopo la partita con la Pro Vercelli. Un Sena che comunque ha fatto la partita come l'ha fatta in tutte queste partite e si è visto perché comunque la Pro Vercelli è sempre rimasta chiusa nella sua metà campo. Purtroppo è stata decisa da due episodi però questo secondo me è un lato tra virgolette positivo perché comunque vuol dire che giochiamo, il gioco c'è e stiamo ingranando. Sono sicuro che i risultati arriveranno molto presto. Un'altra buona prestazione a parte tua oggi con il centrocampo a 5 dal laterale, dal tornante, è un ruolo che senti ancora più tuo rispetto al terzino nella difesa a 4? Diciamo che ho più possibilità di spingere, di puntare l'uomo perché comunque fare l'esterno di centrocampo sei più libero di puntarlo rispetto al terzino perché al terzino comunque hai sempre il rischio che se perdi palla poi si è scoperto. Comunque la difesa rimangono in 3. Quindi ho più libertà per prendere palla, puntare, per crossare. Alla fine la classifica in questo momento ovviamente non è ideale però voi quanto ci pensate? Vi pesa o cercate di guardare soltanto all'avversario della prossima partita che sarà la Lucchese? No ma la classifica se devo essere sincero io non l'ho mai guardata fino ad oggi. Penso che d'altronde sia così anche per i miei compagni perché comunque si vede palese la cosa che comunque siamo una buona squadra, giochiamo, ci crediamo e sono sicuro che fra poco ingranando ancora un po' riusciremo ad avere i nostri risultati. Questo era Luca Zanon, uno che forse ha beneficiato più di tutti di questo cambio di modulo. Il Siena che nelle ultime due uscite si è schierato col 3-4-1-2 quindi davanti, 3 quartiere tra due punti e non è cambiato niente. È cambiato a centrocampo in difesa Francesco. Una modifica che ha lasciato spiazzati i tifosi ma anche voi i giocatori? Sì la prima partita ci ha lasciato un po' spiazzati perché pensavamo di giocare come al solito 4-3-1-2. Al momento della formazione il mister ci ha detto che poteva darci uno stimolo in più e ci ha detto come giocavamo. Secondo me è stato fatto bene contro il Pisa e anche domenica abbiamo fatto bene però penso che indipendentemente dal modulo il modulo conta relativamente. Poi ci sono altri aspetti che tocca tirare fuori in campo. Certamente. Comunque si sono visti dei benefici l'Apo, la manovra ne ha beneficiato, ha consentito di poter puntare soprattutto sugli esterni. Sì, soprattutto Zanon come ha detto anche nell'intervista di prima è il giocatore che fa meglio il ruolo di tornante all'interno del Siena. Sulla sinistra c'è lui, sulla destra secondo me Brumat e De Santis possono trovare un po' più di difficoltà ad adattarsi al ruolo di tornanti di centrocampo. Comunque il Siena sicuramente con questo modulo ha giocato meglio rispetto alle prime partite, credo come Francesco che sia più motivo mentale che il modulo in sé, anche perché poi alla fine il Siena può cambiare modulo ma gioca sempre allo stesso modo, cioè di controllare la partita, fare molto possesso palla. La cosa che devi migliorare è negli ultimi 20-15 metri, come abbiamo detto in tutte le partite. Quindi diciamo che il modulo, il cambio di modulo, se può dare una scossa, se può dare motivazione in più, ben venga, però poi alla fine quello che conta secondo me in questo momento tanto, come ho detto in ogni puntata, è lo stato psicologico ed emotivo dei giocatori. Quando poi pareggi la quarta partita è molto probabile pareggiare anche la quinta, quando le cose ti vanno male è normale che poi è dura anche di agire durante le partite. Si tratta solamente di ricevere uno sblocco che alla fine col Pisa è arrivato, perché con la Provercelli è stata fatta un'altra buona prestazione, questo bisogna ammetterlo e bisogna dare credito ai giocatori. Purtroppo nel campionato e nel calcio non si contano solo le buone prestazioni, ma contano solamente purtroppo i punti. Quindi il Siena deve imparare oltre a controllare la partita e a giocare da maggior parte delle volte più degli avversari, anche a concretizzare di più, perché altrimenti i risultati non arrivano. Andiamo a vedere tutto quello che è successo nell'undicesima giornata di campionato, quindi oltre al risultato del Siena anche quello delle altre. È cominciato con il pareggio a rete bianche tra Cunio e Pistoiese, poi il 4-1 del Gozzano sul campo dell'Olbia, che è accostato caro all'allenatore Filippi, è stato chiamato alla panchina dell'Olbia l'ex tecnico del Siena Guido Carboni, l'1-0 della Propadria sull'Arzachena, l'Albisola con lo stesso risultato ha battuto la Juventus Sander 23, poi la Carrarese ha spugnato il Mucca Gatta di Alessandria per 3-2, altra vittoria in trasferta del Pisa contro la prossima avversaria del Siena, cioè la Lucchese, il 2-2 tra Novara e Arezzo, detto della sconfitta del Siena con la Provercelli, il Piacenza nel derby, Piacentino vince in rimonta per 3-1 con il Pro Piacenza, e anche questa sconfitta costa caro a Gianni Chedda, in panchina nel Pro Piacenza arriva Riccardo Maspero, e poi la vittoria sofferta, ma comunque significativa, della Virtus Entella nel posticipo di ieri sera con il Ponte d'Era. Occhio allora all'Entella, dove si posiziona nella classifica, che vede al comando il Piacenza a 22, poi Carrarese e Arezzo inseguono a 20 punti, ma hanno due partite in più rispetto al Piacenza, il Pisa insegue a 17, poi Provercelli a 14, Propate a 13, l'Entella al pari con l'Alessandria a 12, ma l'Entella deve recuperare 7 partite, poi la Juventus Sander 23, il Cuneo, il Gozzano e l'Olbia a 11 punti, il Ponte d'Era a 10, e poi troviamo Novare e Pro Piacenza a 9, Robur siamo già in zona retrocessione, purtroppo, ma anche se chiaramente è una classifica ancora in evoluzione, con tanti asterischi, Robur al Bissola a 8, la Pistoiese a 7, e poi la Lucchese a 5 punti, prossimo avversario, ma vedete bene quel meno 11, che è significativo, la Lucchese sarebbe di fatto dietro al Pisa, al sesto posto. Classifica, Francesco, inutile dirlo, deficitaria, il Siena chiaramente si aspettava di più, anche se ha 3, in alcuni casi 4 partite in meno delle altre, per dire, la Juventus Sander 23, ha 11 punti in 11 partite, quindi la stessa media punti del Siena, ma in zona playoff, però nonostante ciò, vederla lì non è una bella immagine. No, tutti ci aspettavamo sicuramente qualche punto in più, quello è inutile nasconderlo, però è vero che abbiamo delle partite da recuperare, ma nello stesso tempo le partite vanno vinte, quindi è inutile parlare, sì è vero che si guarda la classifica, si guarda se la Juve ha fatto 11 partite, il Siena 8, perché comunque è importante, sono comunque 3 partite che se vinci o almeno fai 7 punti, ti rialzi di un bel po', perché alla fine la classifica guardandola è corta. E poi è anche vero che avete imparato dallo scorso anno, quando dovevate recuperare i partiti sul Livorno, ma poi alla fine non è che le vincevate tutte, anzi? No, quello sì, però diciamo che c'è stato un momento a Gennaio dove ci levavamo, mi sa, 12 punti, lì siamo stati bravi perché ne abbiamo vinte due, che erano quelle che dovevamo recuperare, lì ci siamo avvicinati, però è inutile parlare dell'anno scorso perché era un altro campionato. Lapo, questo Piacenza viaggia, veleggia al primo posto e non si ferma più, continua a vincere, 7 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Sì, direi che in questo momento è, io dico insieme a Lentella, la favorita per arrivare prima in campionato, per quanto possa in questo momento contare il fatto di essere favoriti. Credo che il Piacenza e Lentella, per due motivi diversi, siano le squadre in questo momento che sono più in forma, insomma il Piacenza a 22 punti sono veramente tanti, in questo momento ha dimostrato praticamente di poter vincere con chiunque. Lentella è una squadra che ha vinto 4 partite su 4, dopo tutto quello che è successo, insomma ha dimostrato una forza anche mentale impressionante, 7 partite in meno, quindi vuol dire che nel caso incredibile di legge se tutte andrebbe a, non so a quanti punti sta, si va per parlare ovviamente. 33 perché 11 partite. Sarebbe una cosa assurda, però è una squadra veramente forte a dimostrazione del fatto che questo è un girone complicato. Sarà difficile per tutti arrivare anche tra le prime 3, tra le prime 4, tra le prime 5, perché le squadre potenzialmente papabili per i primi posti ce ne sono davvero tante. In Siena è tra queste, per la rosa che ha, per i giocatori che ha, per quello che ha dimostrato, ovviamente l'inizio non è dei migliori, però giustamente bisogna aspettare perché 3 partite possono dire tutto e possono dire niente, se fai 9 punti, 7 punti e invece continui a mantenere questo ritmo blando, dipende. Purtroppo il campionato va accettato per quello che è in questo momento, partite in meno, punti di penalizzazione, la ruchese c'era meno 11, una cosa incredibile. Quindi anche questo immagino non sia facile, preparare ogni volta la partita non potendo considerare la classifica reale, però d'altronde questo va accettato, l'abbiamo detto non so quante volte che ormai la Serie C di credibilità ne ha persa quante ne poteva. Quindi la classifica io direi che fino a gennaio bisogna cercare di non considerarla e poi a metà campionato tirare le somme. Tutto quello che è successo in queste state Francesco ormai è accantonato, il Siena ormai deve giocare continuamente, quindi non ci pensa più, è una parentesi finita. Sì, ormai sì, sono passate un po' di settimane e tutto, quindi tocca per forza accantonarlo. Non è stato un momento facile, però non deve essere assolutamente un alibi. Non dobbiamo pensare che la posizione che abbiamo è perché siamo stati fermi tutto quel tempo, perché se guardi, come detto tu, l'entella, 4 su 4, è stato fermo più di noi. Quindi è inutile pensare a quello che è successo, tocca pensare al campo e a quello che possiamo fare. Ma quando hai firmato con il Siena ci credevi ovviamente, no? Una Serie B? Sì, sì, quello sì, ma come ho detto, io penso che tutti, è ovvio che andare in B, fare un campionato di B o fare un campionato di C è diverso, quello è normale, però come, cioè se ti ricordi all'inizio quando ti ho fatto un'intervista, ti ho detto per me Siena, sia in B che in C, io sarei venuto, perché Siena la vedo come casa mia, sto bene, c'è un gran rapporto con i direttori, con la società, con il mister e quindi a me piace fare calcio qui. Poi quello che succederà non lo so, non lo posso sapere, però ad oggi sto bene qui a Siena. Però dal momento in cui è scaduto il contratto, la tua estate, diciamo, l'hai passata un po' fuori da Siena, no? Inizialmente ti avevamo dato vicino al Crotone, ma c'era qualcosa di vero? C'è stata qualche chiacchierata, ma anche con altre squadre, però io aspettavo Siena, perché c'è stato un momento che era quasi, non dico sicura, ma quasi sicura. È più di un momento. E quindi aspettavo l'ufficialità e tutto, però alla fine è andato così, sono contento di essere qui, non ho nessun impianto e spero di fare bene e di fare un gran campionato con la Robor. Sei andato in scadenza e anche il fatto di aver giocato fino a metà giugno, impegnato nei play-off, ha influito, penso, su questa trattativa, immagino. Cioè fino all'ultimo non volevi comunque, preferivi pensare… Ma quella è stata una scelta, più che altro ho fatto quella scelta l'anno scorso di rimanere in scadenza, magari è anche uno stimolo in più per… è stato uno stimolo in più per me, perché sai, quando sei in scadenza magari tante volte puoi dare anche di più inconsciamente, e si possono presentare fuori delle cose che magari, avendo un contratto, sono difficili da fare. Però non ho esitato nemmeno un momento quando ci siamo sentiti quei direttori, procuratori e tutto. Senti, so che non voglio toccare un tasto dolente, ma quella finale a Pescara eri uno dei pochi titolari in campo. Ti sei sentito anche… Ma ad oggi è ovvio che è inutile, se ti dicessi che non ci penso sarei falso. È normale che ci sono dei momenti dove magari pensi e… Ed è ovvio che è stata una cosa brutta per tutti. La mia rabbia è non averla affrontata con tutto l'organico. Quella è una rabbia assurda, perché poi avremmo potuto perdere. Quello è poco ma sicuro, perché comunque le partite vanno giocate e non sai mai se perdi o vinci. Però una cosa sarebbe stata affrontarla con tutta la squadra, un'altra è stata affrontata con dei giocatori, con poca esperienza e con pochi minuti nelle gambe. Non che fossero più scarsi degli altri, ma i minuti nelle gambe si guadagnano giocando e tutto. E non avendoli magari hai più pressione, senti a stanchezza per Ima e poi la partita era una partita molto importante. Quindi è andata così, non tocca pensarci però. Non tocca pensare a quest'anno, perché altrimenti diventa dura. E la preparazione di quella partita immagino saranno stati giorni lunghissimi in cui si cercavano strategie di recuperare l'impossibile. Penso a Guberti e D'Ambrosio che di fatto non potevano giocare. Stefano ha giocato stirato, mi sa, per farti capire l'importanza. Però la preparazione è stata sempre la stessa. C'era, ti dirò, poca ansia. Poi è ovvio, ti avvicini alla partita, il giorno della partita un po' di ansia subentra perché ti giochi una fetta importante del tuo futuro. Perché alla fine, come abbiamo detto prima, fare un cambiato di C, un cambiato di B è diverso. Però è stata dura perderla. Forse però si è persa nella partita precedente, che dici? Catania. Sì, quando a Catania ti buttano fuori due giocatori e ti ammonisce tre giocatori, due o tre che stanno in diffida, più hai quattro infortunati, è dura affrontare una finale. Però siamo stati, secondo me, dei grandi ad uscire vincitori da Catania. Assolutamente. Allora, chiudiamo questa parentesi con la pubblicità, poi torniamo con l'ultimo blocco di Studio Robur. Abbiamo pronto un piccolo servizio per Francesco Vassallo e poi parleremo anche della prossima sfida del Siena al Porta Elisa di Lucca. Quindi restate con noi. Allora, Grazie a tutti